La crisi economica dovuta alla pandemia sembra lentamente allontanarsi. Anche il PIL è previsto per il 2021 un aumento a più 4%. C'è comunque il problema della disoccupazione, in particolare quella giovanile e quella femminile. Ci sono delle opportunità per chi vuole intraprendere un'attività. Resta al sud fino a 200 mila euro, impresa a tasso zero fino a un milione e mezzo di euro, start-up innovativa fino a un milione e mezzo di euro, self-employment fino a 50 mila euro ed infine il credito d'imposta per chi vuole innovare.